allora oggi è il primo giugno 2024 io compio 53 anni sono le 5 e mezzo di mattina e vi racconto in questa clip è il primo principio importante che si deve sapere questo principio per i non specialisti e come è stato scoperto dagli antichi chimici è che il simile scioglie il simile cosa vuol dire questo che i grassi sciogliono i grassi e l'acqua scioglie materiali simili all'acqua per scendere più in dettaglio si potrebbe dire sempre sì che i grassi sciogliono i grassi e che sono materiali organici di solito mentre i materiali acquosi vengono sciolti dai materiali acquosi a parte alcune sostanze tipo l'alcol che è una sostanza organica ma che sta bene un po da tutte e due le parti e non entro nei dettagli per dirla con il linguaggio dei fisici questo vuol dire costante di elettrica simile per dirla con il linguaggio dei chimici o dei chimico fisici questa è la polarizzabilità e ha a che fare con le cariche elettriche di chi come dicono i chimici delle molecole le molecole sono unità di sostanze mentre gli atomi sono unità di materie e quindi possiamo portare un esempio così non di cucina per il simile scioglie il simile tutti hanno presente quei liquidi tipo lo svitol lo svitol e simile insomma non dico che tipo di molecole sono però ho gli sgrassatori questi sono in grado di legarsi ai grassi e di portarli in fase acquosa questo implica che devono avere doppie proprietà elettriche una parte carica elettricamente e una parte elettricamente neutra quella elettricamente neutra è quella che sta bene con i grassi o con le molecole organiche la prossima volta disegnerò delle molecole così capirete la prossima volta disegnerò delle molecole organiche la prossima volta disegnerò delle molecole organiche la prossima volta disegnerò delle molecole organiche